Sofì Codegoni e Alessandro Basciano hanno scoperto a verissimo il sesso del figlio. Hanno scelto il pomeriggio di Canale 5 per farlo. Sono entrati con una scatola bianca dalla quale poi sarebbe venuto fuori il colore azzurro o il colore rosa. Non sapevano nulla. È stata una sorpresa anche per loro. Silvia Toffanin ha condotto l'intervista in attesa di quel momento. Ripercorrendo prima le tappe del loro amore. Sofì ha esordito dicendo di essere in attesa di quattro mesi. Anzi è alla sedicesima settimana avanzata. Alessandro come ha reagito alla notizia? Sofì le ha fatto uno scherzo prima di scoprire la gravidanza. Un po' di tempo fa gli ha fatto uno scherzo mostrandogli un test di gravidanza. Infatti? Ma non era vero. Quando si è presentata di nuovo con un test? Basciano non ci credeva. Io ero sul divano. Ho detto dai non è vero. Riproviamo. Lo ha fatto la seconda volta ed era veramente incinta. Questa volta però era tutto verissimo. Come il nome della trasmissione in cui sono stati ospiti oggi. Silvia ha spiegato al pubblico che Sofì e Alessandro stanno insieme da poco tempo. Tra qualche giorno infatti festeggeranno il primo anno di fidanzamento. Tutto molto veloce ma allo stesso tempo tutto molto intenso. Ha commentato l'ex tronista di Uomini e Donne. A proposito della proposta di matrimonio sul Red Carpe. Basciano ha detto. Volevo renderla la ragazza più felice sulla faccia della terra. Lei pensava io fossi inciampato. Sofì ha aggiunto di aver capito fosse una proposta. O un gesto d'amore come continuano a chiamarlo loro. Solo quando ha visto l'anello.